Panicchi arriva la conferma a sindaco di Ancarano, insomma il quarto mandato, vantaggio netto rispetto all'avversario, insomma il progetto civica Ancaria prosegue. Il progetto prosegue, viene confermata quella che è la fiducia al nostro gruppo e questo deve riempirci di orgoglio perché lavorare, iniziare, confermarsi, andare avanti per la strada intrapresa e raggiungere di nuovo un obiettivo della vittoria credo che non sia una cosa facile e ricorrente. Io con l'occasione voglio ringraziare tutti i miei candidati indistintamente, i candidati all'agarica di consigliere, tutti coloro che ci hanno sostenuto, tutte le persone che hanno fondato civica Ancaria, tutte quelle persone che hanno creduto in noi, che non ci hanno abbandonato e che ci hanno dato veramente l'anima affinché questo progetto andrà avanti. Noi continueremo con gli stessi principi, con gli stessi valori per il bene del nostro comune, per il bene di Ancarano, per il bene della nostra comunità. Saranno anni importanti, sicuramente incontreremo difficoltà ma incontreremo anche tantissime cose belle da realizzare, lo faremo sempre con la solita passione e con il massimo impegno. La continuità è rappresentata da Angelo Panicchi però nella squadra, in attesa poi anche di andare a vedere quelli che saranno gli eletti, insomma ci sono parecchie novità. Sì, è stata una squadra rinnovata nell'ottica della rigenerazione amministrativa anche di questo gruppo che guarda chiaramente al futuro, oltre che al presente, ed è una squadra costruita proprio per quello che può essere il fabbisogno del territorio, per tenere presente tanti aspetti, tanti settori, tanti ambienti e tante situazioni, proprio per dare il meglio di noi stessi a servizio della nostra comunità.